Salve amici, oggi 29 maggio 2022, Inception 6S e Minicat by Anthony Il mostro, l'Inception, ragazzi, in diretta sul gruppo Inception Mania Allora, vieni qua, se non ti empegni la cosa Allora, vieni qua, se non ti empegni la cosa Allora, vieni qua, se non ti empegni la cosa Allora, vieni qua, a vicina Mamma La bestia! Inception! Spettacolo in diretta! Marzenemi! Anthony avvicina papà! Fermati qua! Meet Jacob 17, vai Anthony! E la bestia l'inception a se esse! Mamma mia! Avviciniamoci qua che ci facciamo una ripresa del colpo, in diretta! Fermo! Vieni, vieni! Non accelerare eh! Vieni! Ragazzi, alla grande! Alla grande! Saluta gli amici che si stanno collegando! Mamma mia che adrenalina! Mamma mia che! ok alla base Entony torna qua, ferma, ferma, ferma così, non accelerai più Miss Diego Inception by Carmelo ed Entony Entony alla grande, ciao amici, a dopo vi faccio sapere la velocità, ma comunque è un successo Grazie 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 Grazie